In campo insieme con Tiago Sinto, con l'altro sono stati gli autori del mio negozio, sono molto carino, sono stati molto bravi, era un partita impeccante da parte di questi giorni, ma è già molto bello e non ci sarà per il suo personale, questo è importante. Questo è la grande perdita del Brasile, perché ti ha uscito la legge da solo una difesa, quindi insieme a Tiago Sinto sono stati quelli che hanno dato una forza a fare questa scuola. Ci fermiamo qui, ma tra pochissimo c'è Motti Mondiali. Grazie.